L'Italia è spaccata in due, l'anticiclone africano continua ad avvolgere gran parte del centro-sud con minime che si forano i 30 gradi e temperature già elevate alle 8 del mattino, mentre al nord le condizioni meteorologiche restano instabili, specialmente ad est. Ammontano a 290 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona per i danni causati dal maltempo di mercoledì sera. La grandine, di dimensioni eccezionali, ha danneggiato insegni, veicoli parcheggiati e addirittura ha lasciato segni sulle facciate di molti edifici. Un grosso albero cadendo ha colpito una fermata dell'autobus, dove fortunatamente non si trovava nessuno, oltre a bloccare la viabilità lungo la riviera del Brenta. Dalla prossima settimana l'anticiclone africano rimonterà anche sul settentrione, mentre al centro-sud il caldo non mollerà mai la presa e continuerà a farsi sentire anche nel weekend. Da lunedì, previste sulle regioni del centro-sud, punte di 10 gradi superiori alla media e massime di nuovo sopra i 40 gradi su gran parte del paese. Intanto, ieri, il tavolo di confronto sull'emergenza caldo sul lavoro non ha dato risposte certe. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è reso disponibile a collaborare alla stessura di un protocollo congiunto con le parti sociali, in cui affrontare i temi dell'organizzazione del lavoro e delle misure da adottare per fraffronte a tale emergenza. Si va verso una semplificazione della Cassa di Integrazione Ordinaria per eventi meteo estremi. La ministra Marina Calderone ha convocato un nuovo tavolo per lunedì.